Nelle relazioni sembra quasi che le cose non possano fare altro per un determinato tipo di persone, le persone irrisolte, che andare peggio. Qualche giorno fa parlavo di quella situazione, di quella ragazza che da una relazione finita male è passata a tutta una serie di relazioni sessuali, una peggiore dell'altra. Ho decine di esempi di persone che hanno un partner che le tradisce. Loro scoprono il tradimento, lo perdonano, fra virgolette. Il partner continua a tradire e in maniera sempre più sfacciata, sempre più sfacciata, arrivando a un certo punto in cui, immancabilmente sembra, il partner dice è così o niente. Io voglio altri partner sessuali. Se ti sta bene, bene. altrimenti quella è la porta. O altre situazioni di aggressività sempre maggiore. Insomma, davvero sembra quasi che le cose possano soltanto andare peggio. Questo io lo chiamo alzare l'asticella. Come sapete noi abbiamo una scatola delle emozioni e c'è un criterio secondo il quale, se non siamo persone risolte, questa scatola delle emozioni, che è senza fondo, non ha limite, non riesce mai a riempirsi, diventa sempre più vorace. Semplicemente perché a un certo punto c'è asuefazione alle situazioni. Quando noi facciamo qualcosa, il tradimento, in realtà stiamo cercando emozione. Quando siamo aggressivi, in realtà stiamo cercando emozione. Quando facciamo sesso, stiamo cercando emozione. Tutto quello che facciamo lo facciamo per cercare emozione, ma se siamo delle persone risolte, noi riusciamo a creare delle emozioni da situazioni positive, riusciamo a elaborare in maniera positiva le emozioni negative, riusciamo a trarre nutrimento dalle esperienze che facciamo. Se invece siamo delle persone irrisolte, mangiamo ma non ci nutriamo, non ci sfamiamo. Siamo come delle persone vuote che non riescono a riempirsi e quindi c'è voracità, voracità e asuefazione. Quindi quello che prima creavo una certa emozione, il tradimento, oggi non lo crea più. Voglio qualcosa in più. Allora aggiungo al tradimento la paura di essere scoperto, quindi divento sempre più sfacciato. Poi mi rendo conto che il partner me le fa passare tutte. Allora voglio ancora più emozione e inizio a sbattergli in faccia il tradimento in un vortice senza fine. L'unico modo, ragazzi, per cambiare queste situazioni è lavorare su di sé, lavorare sulla propria autostima, lavorare sulle proprie reti sociali e risolverci come persone.